Per il dopo voto, Caldoro, leader del centro-destra e del PDL in campagna. Io faccio il Presidente della Regione. Proprio da libertà ha dirigenti bravissimi, quindi ha una classe dirigente straordinaria che deciderà cosa fare. Tutti possono fare tutte le cose, ho un ruolo molto impegnativo, ma questo non vuol dire che non partecipo e non mi impegnerò a costruire, a rafforzare una classe dirigente che ha una grandissima rappresentanza, una grandissima esperienza e una grandissima forza. Come vedrebbe Mara Calfagna, coordinatrice regionale del PDL? Mara deciderà lei, decideremo insieme, ma Mara è sicuramente una grandissima risorsa, straordinaria risorsa nazionale, ha un ruolo molto forte dal punto di vista anche della mediaticità, una persona che ha una grandissima credibilità, una persona molto seria, che lavora moltissimo per le proprie idee, per il proprio territorio. Non posso che parlarne bene, è sicuramente un punto di riferimento, un'eccellenza, una delle migliori espressioni del popolo da libertà a livello nazionale.